Nelle Marche è stato raggiunto il record di richieste di sfratto. Il Lessuina, sindacato degli inquilini, fa il punto sull'emergenza abitativa in regione. Oltre 2.000 sono le richieste arrivate nei primi sei mesi del 2013 e quasi tutte legate alla perdita di un reddito da lavoro. Più di 8.000 sono invece le famiglie che aspettano un alloggio popolare, a fronte delle 400 che hanno visto soddisfatta la loro richiesta di avere una casa nelle graduatorie ancora in vigore. Ad oggi in regione ci sono ben 290 alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica. La regione si dichiara pronta a garantire a breve vari interventi per far fronte alla situazione. I 10-12 milioni di euro di fondi regionali del programma triennale, la messa sul mercato di circa 280 alloggi sfitti, il Fondo per la Morosità è incolpevole per circa 2 milioni di euro ed infine un fondo di garanzia con circa 2 milioni di euro. Il Suina ha sollecitato per quest'anno un piano straordinario per il 2014 inerente le case.